rosenborg vittoria bella tonda che diciamo ormai vi proietta nell'ultima parte di questo mondiale no scusa silenzio perché sta passando di fede che disturba giochiamo sempre alle 6 ricordi allora bella partita è stata siamo stati attenti dietro alla fine rispetto all'ultima partita dietro abbiamo giocato molto meglio ma è stato fondamentale salafia e un ritorno di trigini ci siamo messi bene in campo siamo rimasti chiusi perché anche loro hanno giocato molto bene è stata una bella partita perché nessuna delle due squadre fondamentalmente si è scoperta più di tanto siamo stati bravi siamo stati bravi a metterla dentro il portiere è stato bravo non ha fatto entrare niente il gran bel gol di davide tunnel e poi dritto verso il portiere ha fatto un bel gol bello bello veramente un bel colpo di gol salafia è questa barriera più stretta questa barriera deve stare ferma deve stare ferma io la metto in un modo so che su quel palo il gol non può entrare se è passata quella parte i miei compagni hanno fatto una cazza te io mi arrabbio comunque alla fine la difesa a retto 0 col subito ma l'ammunizione di mirto diciamo un po' 3-2 sono un ammunizione generosa però va bene non ha importanza intanto fondamentali sono sempre i tre punti fondamentali quindi a prescindere da tutto il resto ultimo ostacolo i newcastle insomma vogliamo i guardi dobbiamo vincere stessa attenzione stessa concentrazione dobbiamo fare più punti possibili vediamo se sarà vabbè siamo 6 e 7 per ora lascia la classifica gli andate a fare un po' di conti complimenti ragazzi alla prossima ciao 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 ciao